Paura in pieno centro ad Arezzo nel tardo pomeriggio, vissuti attimi di vero panico per il crollo di un cornicione tra via Spinello-Retino e via Madonna del Prato. Necessario l'intervento dei vigili del fuoco che hanno transennato l'area e interdetto il passaggio di qualsiasi mezzo con l'apporto decisivo degli agenti della Polizia Municipale. Per fortuna che al momento del crollo non passava nessuno nella zona. Siamo in pieno centro, due passi dalla stazione. Il palazzo che ha perso il cornicione fa parte di un vecchio albergo d'anni abbandonato. Immediato il caos. Le strade sono rimaste intasate con lunghe file. Per fortuna che nel giro di mezz'ora tutto si è risolto. Ma il dato più importante è che il cornicione non abbia colpito nessuno, altrimenti saremmo stati costretti a scrivere o a raccontare un'altra storia.